Qual è la casa di Dio e dove cercarla? Quanto sono destabilizzanti queste domande? Quanti inutili tentativi, quante energie impieghiamo per cercarla? La storia ne è piena, anche quella personale. Abbiamo bisogno di trovarlo, abbiamo bisogno di sapere a quali porte bussare, abbiamo bisogno di risposte che ci permettano di incontrare Dio. Siamo disposti anche a costruire con le nostre stesse mani la sua casa, pur di metterlo al sicuro, pur di mettere al sicuro Dio. A volte siamo presi da quella strana smania di fare qualcosa per lui, fosse per gratitudine o per carpirne benevolenza. E questo è ciò che accade anche a Davide e che ascoltiamo nella prima lettura di questa quarta domenica dell'Avvento. È ciò che Davide desidera con tutte le sue forze e il suo desiderio potrebbe anche essere legittimo. In fondo Davide è grato al suo amico e Signore, infinitamente grato. Il Signore lo ha scelto quando nessuno avrebbe puntato su di lui. Il Signore è stato con lui ovunque, nei momenti di trionfo ma anche nelle sconfitte, anche nelle pagine della vita graffiate dal dolore. Il Signore non ha sottratto mai la sua predilezione, neppure quando Davide ha allontanato la luce dal suo cuore. Davide ha sempre continuato a essere l'amico di Dio. Alla luce di questo il suo desiderio è dunque più che legittimo, talmente legittimo da ricevere anche l'approvazione del profeta Natan. Ma per Dio le cose non sembrano funzionare nello stesso modo e con le stesse logiche. A Davide il Signore ha davvero concesso molto, ma una casa no. Dio non può accettare di dimorare in una casa costruita da mani d'uomo. Non può lasciarsi limitare dai nostri muri, chiudere dai nostri confini. Non può coincidere Dio con le nostre strutture. Io farò a te una casa. Questo è l'annuncio di Dio per Davide. E ciò che vediamo accadere a Nazareth continua a essere il compimento di quella promessa. Il Dio creatore ha custodito Israele, lo ha benedetto, lo ha ricondotto a casa dall'esilio. Il Signore dei Cieli che si è fatto casa per il suo popolo, in Maria sceglie di abitare una casa fatta di carne, facendosi carne. Sceglie di abitare la creatura a cui egli stesso ha dato vita. Nel sì di Maria l'Onnipotente rivela se stesso donandosi, facendosi noi, superando il silenzio dei secoli per offrirsi come parola finalmente udibile da noi, da tutte e tutti noi. Aprendoci a Lui, possiamo diventare come Maria, casa di Dio. E lì trovarlo. E lì trovarci.